E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, buon pomeriggio da Davide Romagnoli e benvenuti allo Stadio Olimpico di Roma per Lazio Benevento. E' la trentesima giornata di campionato, si torna in campo in questo sabato prepasquale dopo la sosta nazionale e i biancocelesti di Inzaghi cercano di ritrovare il ritmo giusto. L'apertura sulla destra, subito Schaus per il Benevento! Palla sul fondo di un nulla con Andrea Costa che è arrivato dopo il passaggio a Lombardi. Lucas Leiva alza, il pallone mette, in moto immobile, posizione regolare, immobile! Chiude Pugioni forse con un braccio. Allora cartellino rosso per Pugioni, ultimo uomo, chiara occasione da gol, subito Benevento in dieci. Sulla tre quarti, pallone geniale per Immobile in aria, immobile! Sblocca la sfida, Ciro Immobile, 1-0 Lazio, gol numero 25 in campionato per l'attaccante napoletano. Parti in azione personale, Diuricic non lo fermano, quelli della Lazio, Diuricic! Stracoscia, chiamato a rispondere, troppo spazio per Filippo Diuricic che impegna il portiere albanese. Va Cataldi col destro, direttamente in porta! E arriva il gol del pareggio per il Benevento! Ha segnato Cataldi il gol dell'ex, 1-1 al ventitresimo! Arriva il fischio di Calvarese, riparte Lazio-Benevento. Le squadre un po' lunghe, in avanti Guilherme, prova ad arrivare sul pallone come un treno Lombardi. Va via Patrick Lombardi, tiene il pallone in campo, il tocco lì dietro! E poi arriva il gol di Guilherme! 2-1 Benevento, clamoroso all'Olimpico! Il Benevento la ribalta! Lei va, Luis Alberto, il cucchiaio in aria, Caicedo! 2-2 al quarto d'ora della ripresa, Felipe Caicedo trova la parità! Secondo gol in campionato per l'Equadoregno. Arriva il cross di Luis Alberto, colpa di testa e arriva il gol! Del 3-2 e la Lazio con De Frai e trova lo stacco giusto per battere Brignoli. Pallone recuperato dalla Lazio, Immobile si lancia verso l'area, Immobile, Immobile! Poker Lazio, doppietta di Immobile, 4-2 e 26 in campionato per il numero 17. Patrick, Lucas Leiva! Sotto l'incrocio dei pali, cinquina Lazio, festeggia anche l'ex Liverpool. Alza il pallone in aria, finisce a terra Nani. C'è il fischio e c'è il calcio di rigore. Va Luis Alberto, spiazzato Brignoli, Lazio 6, Benevento 2, ottavo gol in campionato. Triplice fischio di Calvarese, Lazio batte, Benevento 6-2.